Persone appassionate del proprio lavoro, persone coinvolte, coese, capaci di lavorare in team, persone che ricercano la qualità in tutto ciò che fanno, che hanno il coraggio di innovare continuamente per migliorare i processi e il proprio lavoro. Queste sono le persone che potete trovare in Mille Italia. Immerbesser è il nostro motto anche nelle politiche HR, superare sempre le nostre aspettative e quelle dei nostri collaboratori è il nostro obiettivo.